incredibile ragazzi ci ha fatto doppietta zapata ma abbiamo vinto tra due pazzesco pazzesco ragazzi inizio subito con due serie di applausi due una è per baselli e una è per Berenguer incredibile ragazzi incredibile abbiamo espugnato il giardini di Parma vabbè abbiamo vinto in trasferta con l'Atalanta su campo neutro questo conferma comunque la solidità del toro anche in trasferta la compattezza 6 punti su 6 capolista della serie A incredibile ma faremo un grandissimo campionato e si vede se arriva quel benedetto innesto siamo buoni Berenguer partita wow partita wow per il gol per il gol perché per il resto è stato abbastanza scialbo ancora una volta abbastanza tanti errori commessi a livello di passaggio a livello di dialogo con i compagni caparbietà troppa sicurezza nei propri mezzi insomma impreciso Berenguer la parola per descriverlo è impreciso un giocatore che deve maturare ancora tanto e che io vedo non adatto ai colori granata comunque ho gli occhi tutti neri non so perché l'illuminazione abbastanza bruttina ecco comunque l'importante è che voi capiate quello che voglio dire ma ragazzi veramente ce li ho gli occhi e ce li ho comunque l'Axalt esordio per il Torino scusate se vado un po' a molla salto di là di qua di là però non voglio farvi una recensione della partita voglio dire quello che ne penso io l'Axalt ha fatto un esordio normale quasi ingiudicabile bisognerà vedere più avanti però sicuramente ha contenuto bene l'Atalanta alla fine nelle fasi finali della gara quando ha sostituito Berenguer chiaramente siamo passati a un modulo più di copertura Sirigu è mostruoso ragazzi non può essere titolare donna rume nazionale Sirigu è mostruoso è un portiere pazzesco cioè di così forti ma dove li trovi ma dove li trovi cioè uno dei migliori a Serie A secondo migliore secondo me dopo Andanovic forse anche a pari meri cioè è fortissimo ragazzi è fortissimo ma è anche sicuro negli interventi nelle uscite nelle prese cioè nelle prese ragazzi ci sono tiri che erano a una potenza stratosferica lui bloccato così di getto pazzesco un portiere fantastico e veramente sono felice di averlo in squadra d'altro canto Gigi male Gigi male però non poteva aspettarmi grandi cose Gigi è appena tornato dall'infortunio si è parlato di due rigori per l'Atalanta inesistenti tutti e due c'è anche stato un check goal var ma comunque nulla mentre Belotti solito guerriero solito combattente questa volta ha perso insomma il duello a distanza con Zapata ma l'importante è che la squadra abbia vinto al di là di tutto la doppietta di Zapata alla fine si è rivelata inutile ai fini del risultato e comunque il gol è abbastanza colpa di Gigi e forse Sirico avrebbe potuto fare meglio però non voglio incolparlo perché ragazzi ha fatto un partito in assurdo poi la loro difesa ragazzi abbiamo vinto per la loro difesa perché diciamolo e anche perché abbiamo più minuti delle gambe siamo più bravi siamo più avanti in fase di preparazione e si denota questa cosa e si denota schemi su calci piazzati al bacio al bacio perfetti Baselli ottima partita ragazzi oggi vedete cosa cambia da uno scontro internazionale a uno nel proprio territorio quello italico no? cambia moltissimo Baselli oggi ha fatto vedere ha fatto una partita pazzesca dove ha messo in mostra gran parte delle sue qualità e veramente se giocasse sempre così sarebbe considerato un buon giocatore e la tifoseria lo amerebbe però purtroppo non sempre è così purtroppo mi dispiace ragazzi per quest'occhio nero veramente sembra che mi sono fatto qualcosa ma in realtà insomma non c'è nulla comunque cos'altro c'è da dire? ci sto pensando ci sto pensando perché boh Izzo ragazzi il gol di Izzo Izzo e Bonifazio hanno segnato questo a conferma della scorsa stagione dove erano stati i due difensori goleador principali forse della Serie A assieme a Mancini Bonifazio con la Spal, Izzo con il Toro però comunque Bonifazio ha dimostrato grande maturità di poterci stare in questa difesa 3 il Cigino mi ha convinto Lianco è sempre rotto la piglia in culo in tribuna si fa l'abbonamento in tribuna e se ne sta là punto, basta questo pugno due alla società lo apprezzo tuttavia nonostante il gol di Berenguer tra l'altro con 1-2 con Meite ragazzi ci tengo a sottolinearlo io lo sostituirei, io prenderei questa benedetta ciliegina sulla torta che serve ragazzi, è evidente che serve una ciliegina sulla torta Berenguer non è all'altezza tra l'altro oggi neanche con il 3-4-1-2 neanche con il 3-4-3 ma con un vecchio 3-5-2 con Berenguer seconda punta abbiamo vinto ragazzi prestazione fantastica il centrocampo a 5 è l'ideale per noi perché riusciamo ad aggiungere qualità o presunta qualità comunque oggi tanta qualità Meite Baselli ha sostanza, ha quantità perché il generale anche oggi partita stratosferica ragazzi falli spesi bene quando andavano fatti ma comunque bloccato diverse ripartenze di fisico imponente contrasti aerei ottimi insomma ragazzi e riuscire a bloccare una squadra che gioca bene come l'Atalanta vuol dire che insomma il Torino è tanta roba e tra l'altro siamo una delle tre squadre a punteggio pieno quindi andiamo dritti a giocarci lo scudetto con Inter e Juve pazzesco ragazzi incredibile da pensare ma è così siamo a punteggio pieno che altro c'è ragazzi sto godendo ma è naturale ma è ovvia la cosa dell'Atalanta Muriel è stato inefficace pazzesco ma è vero Muriel è stato inefficace mentre quello che ha creato più pericoli è stato Illicic ancora una volta Illicic è la mia bestia nera ma anche quella del Torino ogni volta che Illicic gioca contro il Torino comunque qualcosa lo fa sempre gol, assist, azioni pericolose le fa gol presi insomma un po' da rivedere alla difesa però per il resto mi è sembrata comunque abbiamo saputo soffrire ecco nei confronti di una squadra che doveva per forza cercare di spingere per trovare il pari oppure di portarsi anche in vantaggio con un ulteriore gol comunque abbiamo dimostrato grande carattere una squadra che in quelle zone alte secondo me può starci adesso bisognerà vedere con Lecce per favore per favore con Lecce bisogna vincere confermare l'andamento positivo abbiamo due settimane anche per riposarci rimetterci in sesto ricaricare le pile in vista della prossima partita quindi insomma fiatiamo poi con calma il Lecce ha fatto un inizio disastroso e io direi che è da battere è da battere non possiamo permetterci un pareggio o una sconfitta assolutamente no siamo una squadra che può e deve battere Lecce sopracciglia nere con gli occhi neri mi dispiace lo ripeto ancora una volta però l'importante è che voi capiate quello che ho da dire io penso di essere stato abbastanza esaustivo onestamente ho parlato più o meno di tutti i singoli del Toro ah tra l'altro De Silvestre ha fatto quello che vuole a Tebor in fase difensiva ripeto offensivamente ci sta difensivamente pecca un po' Arana nullo nullo al posto di Gosens sulla sinistra invece O'Lyne mi è piaciuto fisico imponente nonostante non sia un esterno sinistro puro insomma ci può stare là e secondo me piano piano lui insomma ci sposterà a destra e a sinistra il titolare diventerà l'Axal col tempo comunque questo è un Torino che insomma deve cominciare una sorta di progetto giovani e col tempo con la calma si fa tutto ragazzi quindi insomma la prossima ragazzi come ho detto ragazzi ragazzi comunque la prossima ce l'abbiamo io guarda rivedo la classifica adesso pazzesco ragazzi la prossima ce l'abbiamo con il Lecce ripeto tre punti obbligatori al 100.000% ma neanche pensarci proprio Lecce che ha perso Lecce che avrà sicuramente voglia di dimostrare qualcosa ma è un Lecce in crisi è un Lecce che ha dimostrato diversi errori in fase difensiva quindi è un Lecce che si può battere tranquillamente dunque ditemi voi che cosa ne pensate di questa partita sempre forza toro ragazzi sempre non scoraggiamoci perché questo questo qua sarà un grande campionato parola di calcio toro ve lo assicuro vendo solide realtà ciao ragazzi sempre forza toro questa partita è stata spettacolare entrerà nella storia quando ci qualifichiamo